Più che acconciature, opere d'arte ispirate alla natura del Salento, come questa suggerita dalle onde del suo mare cristallino e riservata ad appuntamenti di gala, o come questa veneristica testa maschile dove il movimento raffigurato riproduce addirittura il pizzica madonne, uno dei vermi più diffusi nelle campagne salentine. A realizzarle alcuni degli allievi della scuola di formazione per acconciatori GASAM di Lecce, componenti del team italiano, protagonista ai recenti campionati europei di acconciature a Parigi, con una medaglia d'oro e una d'argento. Un verme nostro tipico, infatti si vede dalla parte di dietro, che è aperto e viene riferito anche nella parte di sopra, anche con le colorazioni. Un risultato di prestigio che ancora una volta porta alla ribalta internazionale l'artigianalità del Salento, che meriterebbe, come in questo settore, ben altro sostegno. Molto spesso questi ragazzi che fanno tanti sacrifici, poi le aziende poco si rivolgono verso loro, anche le istituzioni, perché dovrebbero essere un po' più strutturati, cioè un po' più sostenuti anche con delle borse di studio e non solo lavorare per le aziende in base a un fatturato che si fa, ma in base alle competenze. Sarebbe opportuno per tutti.